Ciao Belli, benvenuti al mio canale, io sono Amale e oggi andiamo io e la mia signorina Kali all'Intea. Buona visione! Questa cosa fa così, mi piace. Mi piace, mi piace, le cose così. Questa sono i tavoletti, tutto fuori. Mi fa un passivo per 100 euro. Kali dalla cuccia. Ti piace? Che letto alto, bellissima la lampada là, che scontata. Bello anche lo specchio, enorme. Questo divano scontato, 390 euro. Mi piacciono tantissimo questi divani, infatti c'è questa poltrona così, ma guarda questa, con questo colore, stupendo. 349 euro. E color senape. Bella color senape, 239 euro. Bella. Bellissimo questo spazio così. Questo spazio che sto tirando. Mi piacciono tantissimo i specchi. Bellissimo così. E' veramente molto bello. Mi piace tantissimo con il mobile da questo. Molto bello. Hanno scontato 1 euro di questo. E queste ceste che ne ho comprate, che ce l'ho per le mie piante. L'ho pagato 8 euro. Adesso costano 12. Non so perché scriva niente. Certo. 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 Questa è spuntata. No. Quello che ho bisogno io in casa. Qualcuno del genere. Per 149 euro. Per 149 euro. Per le sedie. O così che sia piccola. 80 euro. O ci sono così che non mi piace molto. 100 euro. Mi piace più questa. Questa qua mi piace molto. Questa qua mi piace molto. Bella. Preparto cucine. Guarda che belle idee. Mette il vassoio sotto. Poi mette le capsule. Bellissima. Quanto costa? 30 euro. Bella. Una cucina sobria. No. No. resta. Questa è molto carina. Semplice. Questa mi piace. Questa è molto bella. Il marmo. Questa qua è bella. C'è scritto. Bellissima. Dopo le cucine hanno messo i mani. Guarda che belle queste cose. rovinezzi silica nero prezzi questo è carino però non mi piacciono i specchi così, per favore questi specchi che non hanno la cornice dunque questo qua costa 10 euro questo 14 poi questo 149 questo 25 che è abbastanza grande questo più quadrato grande 35 non è male ci siamo per il gatto guarda, spazio per il gatto più carino vieni Cali vieni carino questo bagno qua spazio per il trucco poi la camera da letto quanto mi piace questo verde Cali, vieni amore vieni bellissimo senate verde con una combinazione stupenda e poi la cabina armadio dei miei sogni che finché non trovo mio sugar daddy rimarrà un sogno scherzo no, non sto scherzando queste padelle che ne avevo già comprato una a 4 euro ne ho presa un'altra per lavare un dure posate nere non so particolari ci sono anche questa ecco le pezzine ciotole 99 questi credo che sono come quelle che ho a casa 69 tutti i piatti piccoli e grandi eccetera anche i piatti per la pizza e di euro 49 di novità che non mi piace neanche un po' ancora e 20 d 20 t 20 20 20 20 21 80 euro che la compri non durerà nulla la stampa la piace molto molto carina le piacciono da sempre non costano neanche tantissimo questa è molto carina queste qua costano meno ma che bello questo specchio bellissimo 119 questo 80 e quello su che è stupendo a 109 questo è 440 guarda che si guarda sono più belli tutte e due all'IKEA non costano per niente tanto questa pannina e il problema è che durano pochissimo ho preso questa pianta l'ho presa apposta per questo vaso la pianta è un po' rovinata però gli do una bella cura e il vaso che mi piaceva 1 euro e 49 tutto è la pianta e il vasetto ho preso ho speso una cifra di 10 euro 50 questi qua su 69 69 questa 99 69 69 69 tutto non so sicura non mi ricordo ma non sto perdendo colpi invece la padella che ne ho una uguale l'ho pagata a 4 euro perché era scontata non sono per niente male invece sono andata a questo negozio che si chiama spero che si pronuncia giusto JASC questa marca qua ho preso un cuscino tra l'altro ho preso il cuscino dell'IKEA con 3 euro 50 ma faceva veramente pena perché sono andata a questo negozio l'ho trovato a 4 euro quello di lì che era un restituisco 4 euro ma che bello che è bello pomposo perché il mio faceva veramente pena l'ho buttato via e ho preso questi federe che li avevo presi quando mi sono trasferita qua li avevo trovati in offerta l'ultima volta che sono andata e costavano tipo 1 euro e 50 invece questi costano 2 euro e 50 non sono care per niente e sono 100% cotone ok ce l'ho fatta e sono 50 per 70 a me piacciono moltissimo perché ne ho le mie sono più piccole di queste le avevo pagate meno però erano anche più piccoli comunque belli se vi piace il video mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità è già notte fonda io vado a dormire un bacione a tutti